Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPI-Li dove a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla strassigna provenendo da Firenze e code a tratti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. Rimaniamo in FIPI-Li dove per lavori al viadotto stagno da oggi fino al 28 febbraio è prevista la chiusura in successione alternativamente delle corsie di marcia e di sorpasso in entrambe le direzioni all'altezza del chilometro 76 e 400. Sulla 1 panoramica si ricorda che fino al 28 febbraio rimarrà chiuso per lavori il tratto tra Aglio e Roncovilaccio in direzione Bologna. E sempre a causa di lavori sul raccordo Siena-Firenze sono in vigore restringimenti di carreggiata tra San Casciano e Firenze in pruneta in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Un viaggio! Grazie a tutti!